L'Italia Voglio riuscire a portare l'Italia il più in alto possibile perché l'Italia se lo merita. Il Bocuse d'Or è il concorso per chi fa il cuoco, per chi viaggia nelle cucine, per chi attraversa i ristoranti, per chi mette le mani in pasta. Vincere il Bocuse d'Or come solo orgoglio personale è una cosa grandissima. Ti cambia completamente la vita. L'Accademia Bocuse d'Or Italia è nata appunto per prendere a braccetto il candidato italiano, vincitore della selezione italiana, e accompagnarlo aiutandolo dal punto di vista dell'aspetto di design con il supporto del sapere, aiutandolo anche a sopportare lo stress sia fisico che mentale della competizione. Una cosa molto bella di cui vado molto fiero è il fatto che noi ad Alba, con l'Accademia, abbiamo realizzato un box con le stesse identiche dimensioni del box che è poi a Lione. Hai la possibilità di allenarti nel migliore dei modi. Possono partecipare tutti i cuochi da 22 anni a 60-80 anni. Bisogna prima fare un progetto ben definito da far conoscere all'Accademia Italiana Bocuse d'Or. Ci sarà poi una selezione italiana, in questo caso quest'anno abbiamo deciso di iniziare con la città di Alba, dopodiché il candidato verrà accompagnato insieme all'Accademia Italiana Bocuse d'Or alla finale europea, che quest'anno ancora meglio si terrà a Torino. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.